La mia dimensione, minuscolo di fronte all'immenso, 11 giugno 2021. Così accompagnava questa foto su Facebook Lorenzo Scandroglio in uno dei suoi ultimi post. Lorenzo non ce l'ha fatta, se ne è andato stamattina, aveva 52 anni. Era stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale maggiore di Novara dopo un'emorragia cerebrale che il 1 di luglio lo aveva colpito presso il rifugio del CAI, città di Arona, all'Alpeveglia, che gestiva nel periodo estivo. Si era occupato anche del rifugio Miriam in alta formazza. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Scandroglio, appassionato di montagna, è stato grande protagonista della vita culturale e locale e non solo. Tra gli ideatori del festival Letteraltura era scrittore, giornalista, collaborato con diverse testate nazionali ed anche cinofilo del soccorso alpino insieme con il fedele amico a quattro zampe, Cocis. Originario di Gallarate, aveva poi scelto però di trasferirsi in Ossola. Da poco, dalla seconda metà di giugno, aveva riaperto il rifugio Alveglia. Era una persona molto amata, estimata e la notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente tutto il VCO, dove si sono moltiplicate le manifestazioni di cordoglio. C'è chi per salutarlo ha preso in prestito le parole dei maestri del buddismo. Lassù, tra quelle aride e assolate pietraie, si svolge uno strano mercato. Puoi barattare il vortice della vita per una beatitudine senza confini.